In Asso hanno chiuso il centro Alzheimer di Battipaglia. La decisione sembra essere scaturita dalla mancanza delle autorizzazioni richieste e le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali. I circa 20 pazienti potrebbero essere ospitati da lunedì nei locali della chiesa San Gregorio VII. Sulla questione la sindaca giacidio francese sottolinea «E' stato chiuso il centro Alzheimer, il centro diurno da otto anni e il punto di riferimento per i malati di Alzheimer e per le loro famiglie. La situazione è frutto di una serie di inadempioni impienze e dimenticanze vecchie da anni, alla cui soluzione non si è provveduto nonostante i ripetuti incontri e le sollecitazioni all'ASL promosse dall'amministrazione. Secondo la prima cittadina, questo comportamento lascia l'amara sensazione che non c'è la volontà di consentire al centro di continuare il suo lavoro. Poi si rivolge ai vertici dell'ASL. Mi auguro che sia solo una sensazione e che alla luce anche del provvedimento di chiusura i competenti e dirigenti dell'ASL si attivino per adottare i provvedimenti necessari a partire dalla sottoscrizione della Convenzione per consentire al centro di tornare ad essere un punto di riferimento per i malati e le famiglie interessate».